Hai un sacco di libri a casa che non leggi più o dei vecchi libri di scuola che non utilizzi e non sai come liberare spazio? Noi li acquistiamo e tu decidi come essere pagato, con bonifico bancario, con Paypal o con un buono acquisto da spendere su Libraccio.it Con un'extra valutazione! Eccellente! Il mosaico sta prendendo forma! Per vendere i tuoi libri online usati, vai su www.libraccio.it e clicca sul box Vendi i tuoi libri usati online. Inserisci nel box il codice o la lista dei codici ISBN. Dove trovi il codice ISBN? Sul reto della copertina del libro, guarda in basso! Il sistema ti dirà subito se accettiamo i libri che hai inserito e quanto vengono valutati. Controlla che siano selezionati tutti i libri che vuoi vendere, premi il bottone Vendi i libri selezionati per inserirli nella tua lista vendita. Una volta compilata la tua lista vendita, clicca su Invia. Riceverai una mail di conferma che ti spiega come preparare il pacco e come contattare il corriere per il ritiero. Hai qualche domanda? Scrivicela nei commenti! Alla prossima!